Mi viene in mente una frase di Gustav Mahler quando diceva che la tradizione è, come dire, la riproposta del fuoco, non l'incensamento della cenere. Quando si parla di fuoco si parla di vitalità, si parla di cose vere. Il fuoco è vivo, non è la cenere, perché riproporre delle cose che sono già state fatte non è altro che una forma di scimmiottamento, è una forma di passatismo, ma siccome nella tradizione ci sono ancora molti pensieri che non sono stati del tutto sviluppati, io credo che sia che rientri comunque nell'obbligo in qualche modo degli artisti di continuare su questa via, anche perché tenendo ben presente che l'albero è sempre quello, ma però le foglie in continuazione cambiano e quindi il contemporaneo può essere anche un tipo di foglia nuova. Grazie. Grazie. Grazie.